benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi vi do il benvenuto in un nuovo video della blizzy academy siamo qui a bordo della leggendaria e bellissima uss missouri per trattare in maniera dettagliata quello che è il nuovo ramo delle correzzate ibride statunitensi ovvero quello che è tutti gli effetti un mini ramo nebraska delaware e ovviamente la tier 10 ilusiana già qua in porto sono tre navi da battaglia che avete già visto recensite tecnicamente nel dettaglio singolarmente qua sul canale di youtube ma oggi andremo a fornire una serie di consigli le tratteremo anche dal punto di vista puramente tecnico e andando poi nella parte finale del video a consigliarvi quelli che sono diciamo i talenti principali del comandante per poterle farle performare veramente al meglio prima andremo con l'intro generale delle quelle che sono le caratteristiche e diciamo delle navi ma prima di tutto il nostro sistema di rating il sistema del punteggio il cosiddetto blizzy comfort signori è un sistema di rating puramente goliardico è per cui c'è mister gray nelle sue abitudini più assurde però ovviamente anche una cosa basata su fatti concreti e ovviamente questo sistema di bilanciamento del rating è basato sulle partite in random battle e confrontando le navi in questione nebraska delaware e olisiana con le altre corazzate tier 8 9 10 di world of worship andiamo agonia ungherese con mister gray piuttosto preoccupato quando la nave fa abbastanza schifo lento mal di testa quando la nave è piuttosto scarso nelle performance nella media quando tutto sommato è in grado di fornire delle buone prestazioni ma non eccezionali pensieri di sembravi quando la nave effettivamente riesce a performare alla grande e infine rng sama ma non è questo il caso nel quale mister gray è completamente sdreato perché la nave talmente forte e opi che la saprebbe giocare chiunque con grandi performance questo è il nostro sistema di rating questo invece che potete vedere adesso è effettivamente le quello che è la tabella generale di riepilogo di quelle che sono le caratteristiche di queste nuove navi da battaglia sono navi appunto ibride che hanno delle capacità speciali e qui sono elencate un po in maniera positiva e anche in maniera negativa quelle queste corazzate cos'hanno di particolare rispetto alle altre sono batterie principali da 406 quindi hanno lo stesso identico calibro delle battship originali quelle del ramo che porta alla montana sono tutte dotate di una squadriglia aerea di bombardieri incendiari la nebraska monta i bombardieri della lexington la delaware monta i bombardieri base della midway e infine la louisiana monta i potentissimi bombardieri evoluti della midway ovvero il top del top per quanto riguarda le bombe incendiare dall'alto della grande portiera statunitense performanti in anti-air hanno tutte un armamento anti-air piuttosto potente oltre il fatto che possono montare un fighter scelta obbligata perché non potete montare un aeroscout in quel caso forzata limitata scelta dei consumabili perché come dicevo prima hanno dei consumabili limitati e questo è un po un punto negativo perché si poteva magari spaziare un po di più nella fantasia è una piccola critica fatta alla wargaming proiettili incendiari abbastanza scarsi hanno delle fire chance piuttosto limitate e un danno quantitativo che è molto spesso si aggira tra i 5200 e 5800 quindi effettivamente si sono principalmente con i proiettili api a parte quando magari siete totalmente privi di penetrazione che magari l'avversario è troppo resistente o dovete sparare contro un destroyer in questo caso il proiettili incendiario da preferire ma per il resto usano principalmente il loro quadratore 106 con diciamo buona penetrazione ma non sempre sovrastrutture molto vulnerabili il fatto che abbiano questo gigantesco ponte che si può vedere anche lì nel dettaglio nell'in basso a destra e permette dei facili incendi quindi quella zona è molto molto leggera l'avete visto anche nei video dedicati anche un destroyer o un cruiser light alla peggio può effettivamente riuscire a farvi malissimo in quella zona bruciando ma soprattutto tirando delle salve anche da 3400 che dopo qualche secondo possono diventare fastidiose e molto difficili da sopportare adatte per giocare da lontano perché effettivamente hanno una buona agitata e devono sparare da lontano perché avendo un'armatura superiore così limitata se non stanno lontano finiscono spesso per finire preda delle bombe e dei proiettili incendiari ecco perché devono mantenere certo una certa distanza sempre durante la partita io ovviamente sto parlando delle random battle e poi nel competitivo è un altro discorso cittadella e delle tre navi risulta sotto il livello di galleggiamento è vero se avete notato durante le schede armatura degli altri video dettagliati hanno tutte e tre la cittadella sotto nella zona immersa di conseguenza è un corfo difensivo maggiore quando dovete essere colpiti dalle grandi navi da battaglia avversarie uniche corazzate in grado di localizzare i destroyer senza radar appunto godendo di questo bombardiere che effettivamente è limitato perché si ricarica durante la partita e non ha un tempo di volo previsto lo potreste tranquillamente a passare l'intera partita solo con gli aerei girando per la mappa ovviamente ve lo sconsiglio perché non fareste danni però effettivamente quel bombardiere ha una capacità di scouting illimitata che è unica nel suo genere perché a parte appunto la kirsarge e il vario comportimento giapponese come il tone l'ise che però sono di altri tier che hanno appunto un attacco aerostrike dedicato anche se non sono portaerei la louisiana rappresenta a tutti gli effetti una cosa unica mai vista in world of warships e infine nuova variante per il competitivo il fatto che appunto la louisiana abbia effettivamente questi bombardieri incendiari la mette in un alto livello del tier 10 quindi se vi serve una battleship che gioca da lontano sniper ma che faccia anche scouting contro dd o contro i bersagli che magari sono nascosti vicino l'isola e cercano di conquistare una base la louisiana sicuramente ha questa capacità sicuramente in futuro in clan battle come anche nei tornei verrà sicuramente bannata o limitata per non rovinare tra virgolette le prestazioni livello tattico degli avversari che verrebbero puntualmente scoperte dopo pochi secondi una pena la louisiana avrebbe la possibilità di mandare i suoi bombardieri in cielo possiamo quindi partire con la nebrasca ed è la prima nave che vedremo oggi all'utilizzo tecnico i punti di forza nebrasca canoni precisi con sigma di 2.0 è in assoluto la battleship americana di questa piccola linea con i canoni più precisi ricorda tutti gli effetti della nor carolina tanti punti di vita a disposizione ampia agitata bombardieri molto forti quando gioca da top tier anti era notevole veramente potente e per essere un tierotto quando gioca da top tier soprattutto contro i 7 e i 6 le porterie fanno veramente molta fatica ad avvicinarsi ai suoi ai suoi cannoni difensivi gameplay semplice avendo solo i cannoni davanti e in realtà è un punto di forza il fatto che non abbia canoni dietro perché vi mette nelle condizioni di giocare come se fosse una dunker che una risceglie giocate solo con i cannoni anteriori e tutto il resto non è importante quindi è anche più facile difendere la nave dai colpi potenziali in città delle navi avversarie efficace solo da lontano perché appunto avvicinandosi a questo ponte gigante che può prendere fuoco facilmente e poi strutture superiori facili da incendiare direi che possiamo tranquillamente vedere quindi la nebrasca nel dettaglio e fornendovi un po' quelli che sono diciamo i suoi caratteristiche un po' più da vicino per essere un po' più precisi e diciamo tecnici comunque il vostro visto è che il rating era appena stretto di servervi perché effettivamente la nebrasca è una buona nave da battaglia contro i pari tier e diventa addirittura devastante quando gioca contro i tier 6 e i tier 7 più di altre navi come dicevo prima se guardate il suo armor layout a questo rompe di gaccia tra due piuttosto affidabile il ponte centrale da 32 ecco perché soffre così tanto gli incendi avete questa gigantesca zona molto vulnerabile che permette facili penetrazioni e facili incendi anche da parte di destroyer o cruiser light ecco perché deve giocare molto indietro nessun ponte centrale è corazzato e poi c'è questa fantastica cittadella che è piuttosto protetta perché se guardate come dicevo prima è completamente immersa c'è questa spaziatura da 305 che è la sua armor bat principale ma la cittadella è molto sotto l'acqua di conseguenza solo un tiro particolarmente preciso da una certa distanza e con una determinata angolazione di entrata vi prova in quella zona della nave quindi effettivamente non abbia una spazzatura così ampia sul lato da 305 perché lì si può penetrare effettivamente la nebrasca ha delle buone capacità difensive di assorbimento dei colpi e poi il fatto che abbia questi canoni anteriori offre un grande standard dal punto di vista offensivo a livello di semplicità i canoni se notate sono quelli classici della North Carolina 406 con 2.0 di sigma il proteggiatore fa un po' schifo ecco perché poi va migliorato ma effettivamente su una nave che mostra solamente il frontale questo è un dato che va diciamo che viene meno a livello di importanza la ballistica se notate è molto lenta 701 metri al secondo il progetto di LAP è un po' il problema che anche la North Carolina come anche l'Alabama e la Massachusetts tutte le battesci principali tier 8 americane hanno questo lacuna tra virgolette del tiro particolarmente lento in ballistica quindi bisogna un attimino prenderci la mano prima di poterla utilizzare è vero che ha delle buone capacità di secondare a livello di batteria perché i 127 americani offrono sempre buoni standard a livello di precisione e danno il problema è che ogni volta che si avvicina prende troppi danni a livello difensivo e quindi la cosa sarebbe piuttosto negativa per voi l'air strike è il classico attacco sommergibile doppio l'antiere è particolarmente forte e ha un danno massimale di 1.540 ma comunque è tutto potenziabile attraverso le bandierine e quant'altro la manovabilità devo dire che se guardate è notevole 760 metri di raggio virata vira in un attimo perché effettivamente il raggio virata è molto molto corto e per quanto riguarda la velocità 30 nodi la possiamo definire standard per quanto riguarda il tier 8 se guardate qua tra i moduli e per quanto riguarda anche i consumabili la scelta è limitata, non si possono sostituire sono normalissimi i consumabili anche a livello di repair party non c'è nulla di speciale per quanto riguarda le evoluzioni i bombardieri HI sono appunto gli health diver della portaria anche se va detto che gli aerei imbarcati di queste tre corazzate ibride sono diversi in performance rispetto a quelli della versione elite delle portaria perché nelle portaria le bombe HI fanno più male hanno maggiore penetrazione e soprattutto le squadrille sono più numerose qui si parla di un singolo attacco strike una volta fatto quello si torna a bordo della nave per quanto riguarda l'uso dei moduli io vi consiglio sempre il main hardware modification 1 per quanto riguarda il primo modulo principale il secondo ovviamente è il damage control system modification 1 come terzo modulo qui si sarebbero diverse opzioni c'è chi va di miglioramento dell'anti-aerea c'è chi va di miglioramento del brand agitore cose che io vi consiglio io vado di main battery modification 2 anche perché se avete presente prima il discorso legato all'anti-aerea è già buono ma soprattutto l'agitata non ha senso migliorare del 16,5 l'agitata principale quando i vostri canoni arrivano già a una bellezza di 21 km ora con un proettire da 700 metri al secondo sparare oltre questa soglia va oltre le capacità umane ci saranno sia no poche decine di player che possono dire di sparare oltre questa distanza con grande precisione nei mari di World of Warships quindi io vi sconsiglio di andare a puntare maggiormente sulla agitata maggiore e quindi restare con o il brand agitore migliorato oppure l'antiera migliorata per quanto riguarda il lato di preferenza sullo slot 4 ovviamente si va di o damage control system modification 2 ma la cosa migliore da fare sarebbe l'air group modification 3 che migliora non solo gli hp dei vostri bombardieri ma anche la velocità media degli squadroni oltre che il tempo di preparazione degli aerei di volo che scende dal 5% la velocità tra l'altro è una cosa piuttosto problematica perché effettivamente a parte i bombardieri della Louisiana quelli di Delaware e Nebraska sono piuttosto lenti ecco perché questo modulo acquisisce ancora valore ora dipende molto da voi se avete la tendenza a accorciare sempre anche se questo è controproducente allora andate sul damage control system che effettivamente vi permette di ricevere meno incendi a livello di durata se invece riuscite a mantenere una certa distanza sicuramente l'air group modification 3 è consigliabile anche e soprattutto se avete la capacità e siete bravi a droppare con i vostri aerei per quanto riguarda il 4 slot c'è stato obbligato al consummate che dovrebbe scendere permettere alla nave di scendere oltre i 13 km o comunque ridosso di quella soglia sempre e comunque anche su Delaware e per quanto riguarda la tier 10 Louisiana questo è il Nebraska vi invito a vedere il video dedicato sul canale di Youtube in maniera più tecnica se volete avere qualche informazione in più riguardo questa buona nave direi che possiamo passare tranquillamente e ora alla prossima corazzata ovvero il Delaware una grande, grandissima delusione per quanto riguarda questo è il Delaware è una corazzata che io ho piazzato in lento mal di testa e devo dire che fino all'ultimo sono rimasto piuttosto titubante se metterla qua o addirittura metterla in agonia ungherese ovvero una nave veramente pessima infatti l'abbiamo messa in flop ship per quanto riguarda la recensione dettagliata ha un'ampia gittata come anche la Nebraska e ha una delle migliori anti-area del tier 9 come anche la Nebraska e il tier 8 ma poi ha una sfilza illimitata di punti negativi punti vita limitati carne morta nel matchmaking contro le super ship perché la Wargaming ha preso questa genialata di mettere anche i tier 9 contro le super ship che vuol dire morte certa perché i canali li fanno a pezzi canoni con sigma di 1.9 quindi meno precisi rispetto a quelli della Nebraska armatura generale con la brodo perché prende botte ovunque anche perché gioca contro tier superiori quindi prende ancora più botte di quelle che prende normalmente il Nebraska prende fuoco facilmente i canoni spesso peccano in penetrazione avete visto nel video come anche contro una pomerca delle super strutture nella parte del video finale dove effettivamente è facilmente penetrabile il colpo o non entrava oppure andava a colpire i delfini questo per dire quanto fa schifo il Delaware un solo attacco antisono ogni 30 secondi vi mette in condizioni di essere in mutande contro i sumergibili perché lo potete attaccare solamente una volta ogni 30 secondi contro il doppio attacco della Nebraska e della Louisiana e infine scarsa protezione contro i siluri io ancora non ho capito perché la Wargaming ha voluto dare a questa nave un singolo attacco antisonergibile mentre con le altre due e con tante altre corazzite tier 9 ha sempre dato un doppio attacco in sequenza sono i grandi misteri diciamo per quanto riguarda l'Awaregaming e nel suo diciamo a volte tentativo di bilanciare delle navi ma con scarsi risultati per quanto mi riguarda questo è il Delaware se lo guardate è molto più lungo del Nebraska quindi anche più facile da colpire ha questa torre abbinata a popa ma è zoppa perché effettivamente ha un sigo minuto 9 fa abbastanza schifo se guardate la sua armatura c'è una gigantesca una gigantesca zona centrale da 38 mm facilmente penetrabile dagli incendi perché è quarazzata piuttosto male va detto che le sovrastrutture qua sono verdi sono minori a livello di quantità di spazio rispetto alla Nebraska ma questo viene compensato da comunque dal fatto che la nave essendo più lunga è anche più facile da colpire per qualsiasi incrocedore destroyer non solo per le navi con i proiettili a K più potenti esattamente come la nave precedente anche lei monta come detto prima una cittadella immersa che comunque vi dà qualcosa di aiuto anche se effettivamente questa zona laterale 307 che prima era presente sul Nebraska e offriva performance diverse perché al tier 8 ci sono ovviamente dei calibri un po' più piccoli salendo al 9 diventa assolutamente insufficiente per gestire il danno delle navi da battaglia avversaria per quanto riguarda poi dicevo i punti vita che sono limitati 80.800 non c'è questo cambio così effettivo di punti vita rispetto all'8 e considerando appunto che andate contro spesso le supernavi e i 10 diventa assolutamente insufficiente il rivestimento antitorpe è una vera e propria pataccata e tra l'altro viene da ridere considerando che ha un 25% di danno riduzione sui torpe mentre il Massachusetts tier 8 al 45% cioè un tier 8 della stessa nazione che passa in efficienza un tier 9 della medesima nazione è come se la Ugrame vi dicesse no no ma state lontani perché altrimenti i siguri vi fanno a pezzi per quanto riguarda poi l'attacco aereo è un bomber skydiver che presenta il bombardiere base della Midway perché la Midway comandante ha dei bombardieri che si possono anche evolvere con l'esperienza e in questo caso devo dire che contro i 9 è sembrato abbastanza scarsetto buono magari quando colpisce navi di tier più basso come l'8 può capitare ma contro i 10 molte volte viene completamente abbattuto delle entiere avversarie il fatto che gli abbiano messo questo bombardiere scarsetto soprattutto in velocità e da crociera base gli impedisce di essere performante come invece quello del Nebraska al tier 8 io in questo caso nonostante l'aereo è più potente a livello statistico ho rincoscontrato delle performance decisamente più basse a livello di cannoneria siamo a livelli identici rispetto alla Nebraska per quanto riguarda il brandeggio e la ricarica è sempre di 30 secondi tra l'altro non era una brutta idea dare magari una ricarica di 26-27 base considerando che è solamente un 406 mm invece loro no un brandeggio di merda ma soprattutto una ricarica mediocre la cosa però migliore rispetto alla Nebraska è la balistica perché da 702 passa a 7,62 m tra il secondo il proiettile AP è l'identica balistica che trovate sull'Iowa come su tantissimi altri battleship americani diciamo che 7,62 è un po' il 406 mm a livello standard di balistica su tantissime navi tra cui anche il Delaware quindi almeno in questo è più facile colpire i target rispetto alla Nebraska se avete giocato in passato con Iowa con la Missouri col Montana lo userete effettivamente allo stesso identico modo per quanto riguarda le batterie principali cioè poi questa assurda cosa dell'Airstrike guardate un po' un singolo attacco fino a 10 km ogni 30 secondi uno solo quindi se sbagliate quello il submergibile vi rompe le scatole per altri 30 secondi l'antiera effettivamente è molto buona c'è un netto miglioramento sia nel danno continuativo che quello flak radiante rispetto alla Nebraska ma c'è anche un peggioramento netto per quanto riguarda il timone perché dai 760 fantastici del Nebraska passate a 920 metri di raggio virata è vero che la nave è più veloce di 3 nodi rispetto a quella precedente però effettivamente il timone è tutta altra storia rispetto a quello del Nebraska per quanto riguarda i moduli i primi 5 sono identici a quelli che avete visto precedentemente su Nebraska per quanto riguarda il sesto modulo la scelta è obbligata signori Arterie Plotting Room Modification 2 è il modulo migliore al tier 6 migliore anche della ricarica vi sicuro questo modulo è potentissimo sugli americani lo montano solo loro tra l'altro perché migliora dell'11% migliorando di fatto quel pessimo sigma di 1.9 che un po' affligge sia lei che la Louisiana tier 10 quindi è una scelta assolutamente obbligata non fate l'errore di montare la ricarica migliorata a parte il fatto che vi peggiora anche il brandeggio ma soprattutto perché in questo gioco vi assicuro che con le corazzate è molto meglio sparare poco ma sparare bene piuttosto che sparare tanto e non prendere assolutamente nulla anche se col Delaware capita effettivamente spesso i bombardieri sono pur sempre armati con queste bonde se notate rispetto ai bombardieri classici della Midway come dicevo prima il danno è più basso ma soprattutto la penetrazione 42 mm contro spesso gli ultra 60 della Midway ovviamente gli hanno dato dei bombardieri statisticamente simili a quelli della Midway ma non potevano fare un copio in colla altrimenti quei bombardieri lì erano veramente devastanti come tutto sommato io li ho trovati meno performanti rispetto a quelli della tier 8 non a caso gli ho dato un voto più basso questo è il Delaware nave assolutamente secondo me da saltare se potete non vi riferirà nulla di particolare e al tier 10 vi sicuro che la Louisiana è molto più forte sia a livello di cannoni sia soprattutto a livello di aerei i bombardieri della Louisiana fanno paura in confronto a quelli della Delaware tier 9 direi che possiamo passare quindi alla scheda di presentazione per quanto riguarda il tier 10 eccolo qua Louisiana devo dire che sono rimasto fino all'ultimo piuttosto titubante se dare lui un rating diciamo di pensierete di essere bravi o nella media però sono rimasto nella media sapete perché perché effettivamente è una nave che ha tantissimi tempi morti quando infatti siete in cielo effettivamente non potete sparare con i cannoni il problema di queste navi effettivamente è questo se avessero dato loro una sorta di pilota automatico che permettesse agli aerei di andare verso il bersaglio e voi continuare a sparare finché poi non deciderete voi di andare sugli aerei e bombardare il discorso sarebbe diverso ma dato che durante il viaggio che c'è tra il decollo effettivo e il raggiungimento dell'obiettivo voi non potete effettivamente sparare con i cannoni questa cosa vi mette nelle condizioni di calare tantissimo a livello di dpm perché non potete sparare non potete sparare in quella circostanza e quindi di conseguenza le performance della nave e il danno vengono meno delle volte dovrete proprio scegliere se utilizzare i bombardieri che sono potentissimi nel caso della Louisiana oppure andare con i cannoni che sono effettivamente i cannoni di un Montana anche se effettivamente il Montana ha quattro torri trinate mentre qui abbiamo due torri trinate a Prua e una torre quadrinata a Poppa quindi effettivamente montate qualcosa come un cannone in meno un cannone in meno rispetto a quelli due cannoni in meno rispetto a quelli della tier 10 storica della linea americana per quanto riguarda l'arma o layout comandanti è sempre il discorso legato alla cittadella immersa però qua saliamo di brutto dai 307 mm che c'erano del Delaware passiamo a 409 quindi standard molto diversi c'è effettivamente l'identico problema per quanto riguarda il discorso degli incendi perché questo ponte da 38 è tranquillamente penetrabile a 30 da parte della maggior parte dei cruiser light ma anche di alcuni destroyer tipo i francesi e per quanto riguarda poi il ponte centrale ha sempre questo 38 mm schifoso che è facilmente penetrabile da chiunque le sovrastrutture qui sono più o meno simili a quelle del Delaware questo perché la presenza della torre a poppa impedisce al ponte di essere più lungo e quindi essere più esposto a livello di sovrastrutture vi sicuro che esattamente come il Delaware comunque i danni che può prendere sono veramente importantissimi gli HP c'è un netto miglioramento perché saliamo di circa 16.000 punti sfondiamo di 96.000 c'è il solito problema riguardante la scarsità per quanto riguarda l'assorbimento di danni torpedo per quanto riguarda gli aerei questi bomber sono fantastici c'è un miglioramento netto della velocità di roccia ma soprattutto della velocità di punta ma il danno che fanno questi è molto più alto rispetto a quello degli altri vi sicuro che quando colpiscono fanno molto più male dei normali bombardieri del Delaware le batterie hanno sempre l'identico capacità diciamo di ricarica in questo caso la nave è già con i moduli a bordo Elite quindi se guardate il brandeggio è migliorato effettivamente perché ho messo le skill come poi vi ho fatto vedere vi farò vedere a bordo della nave c'è il solito compartimento secondario buono di 127 però appunto dicevo prima è incapacità dal combattimento ravvicinato di conseguenza non è consigliabile avvicinarsi troppo ai bersagli diciamo che dovete stare tra i 15 e i 18 km quello è il range ottimale per poter utilizzare questa nave e ogni volta che notate che c'è un cruiser light che vi spamma addosso incendi vi consiglio di prendere e levare le tende subito perché finirete per diventare un involucro di fuoco in pochissimi secondi l'anti-air è potentissima tra le più potenti viste tra le battleship del tier 10 specie del compartimento sottonitense per quanto riguarda l'i-strike è doppio quindi torniamo agli standard normali anche qui i misteri per cui il Delaware ne abbia solo uno l'aware game dovrebbe spiegarlo ma non ce l'ha mai spiegato la velocità 32.6 già con la bandierina a bordo e il timone rimane identico a quello del Delaware quindi in questo caso lo standard è identico lo scafo effettivamente a livello di manovra è quello il consummate 13.6 è per questo motivo che non ho montato poi la skill che migliora la velocità del motore quando la nave è invisibile perché si tecnicamente potete restare più invisibili più lungo però effettivamente 13.6 è ancora un consummate dove non mi sento di usare così tanto quella skill anche perché il brandeggiatore altrimenti sarebbe piuttosto lungo queste sono le skill dedicate alla nave o prima di dire i moduli esattamente come vi ho spiegato prima i primi 5 se fosse semplicemente il Nebraska tutto il compartimento completo per quanto riguarda Delaware e Louisiana vi ricordo come sempre la scelta è opinabile brandeggiatore o antiera migliorate per quanto riguarda il terzo slot dipende da voi ma soprattutto il slot 4 ovvero il damage control system modification 2 per diminuire la durata di full loading e fire a bordo oppure come ho fatto io il miglioramento effettivo dei parametri aerei e su Louisiana questo modulo diventa importantissimo perché gli aerei sono potentissimi davvero quindi veramente i bombardieri in Louisiana li imparerete a conoscerli quando la sbloccherete vi renderete conto di quanto sono forti salve anche da 14 15 18.000 sulle corattate nemiche solo con le bombe solo con un singolo strike effettivamente sembra quasi di colpire l'avversario in cittadella per dirvi anche se comunque la ricarica è notevole per quanto riguarda i consumabili sono identici come sempre abbiamo infatti il repair party standard senza nessun super ricarica il fighter e il damage control illimitato per quanto riguarda le bandierine abbiamo ovviamente il miglioramento del repair party il miglioramento della ricarica dei consumabili il miglioramento della velocità e quello dell'antiere che la rende tra l'altro elite questi due qua sono ancora più importanti ovvero la capacità di impedire di essere detonati sulle corazzate non fate mai l'errore di non montarlo e poi ovviamente la durata minore degli incendi che sono poi difficili da assorbire prive dell'armatura che avete visto prima c'è poi una variante rispetto a altre corazzate dove solitamente rimettiamo il miglioramento della riduzione sul flooding o delle secondarie in questo caso queste due bandierine qua la victor lima e la india x-ray questo perché queste bandierine vanno a migliorare effettivamente la fire chance dei vostri bombardieri di conseguenza considerando che sono bombardieri incineri e lo usate spesso queste due bandierine lavorano molto bene anche perché dovete compensare molto spesso il fatto che tante corazzate avversarie montano il fire prevention come poi vedrete sul mio comandante e quindi le fire chance in più comunque fa sempre molto comodo e hanno corazzate a giocare solo a media lunga distanza come ho detto prima attenti quando vi avvicinate attenti ai suoi cannoni comunque che sono sì tanti perché comunque parliamo di qualcosa come dieci cannoni però attenti perché il singolo comunque si sente il colpo non è sempre preciso come pensate per quanto riguarda il comandante richard ward che è il nostro comandante vi consiglio di svilupparlo in questo modo col primo punto ovviamente andiamo di emergency repair specialist che diminuisce il countdown effettivo di tutti i parametri difensivi quindi vi preparate di avere prima il damage control e il repair party considerando quando soffre gli incendi è un grande lusso quando avrete poi due punti andate qua grease the gears per migliorare effettivamente la rotazione delle torri che altrimenti di 45 secondi base orribile qui tra l'altro in combo con il modulo che avete visto prima sul terzo slot va effettivamente migliorare il brand di quasi 15 secondi un'ottima cosa considerando che 45 è insopportabile sul terzo livello vi do prima il consiglio di prendere adrenaline rush è sempre la skill da prendere come primo punto ovunque su qualsiasi nave adrenaline rush è fondamentale perché migliora tutti i vostri parametri difensivi e offensivi dalla countdown dell'antiera per quanto riguarda i cannoni i torpedo tutto quello che volete quindi effettivamente è la skill più importante di tutte le skill sul terzo livello poi al quarto livello prima andate di consulment poi prendete effettivamente questo ovvero l'emergenza per i parti che migliora la vostra potenza di rigenerare punti vita oltre al fatto che vi dà un consumabile extra di questa categoria sulla vostra nave e poi a questo punto mettete il fire prevention quando poi arriverete a 18 punti e ve ne mancheranno tre prendete infine l'altra skill sull'altro di valore basic absorbability è a tutti gli effetti un setup full tank ma questo perché perché la nave è talmente leggera a lunga distanza che se non la migliorate a livello difensivo finirete presto per essere affondati anche perché non ci sono effettivamente delle skill così importanti che vanno a migliorare le altre performance della nave questa skill di restare accesi per avere meno reload non ha senso non ce l'ha mai avuto le secondarie ci mancherebbe altro perché non può avvicinarsi con questa armatura l'antiera è già buona non ha senso poi utilizzarla ulteriormente considerando che la porterie non c'è sempre in partita e avendo un fighter già solo il fighter spaventa molto spesso la porterie che vi deve droppare sopra a parte le super porterie ma quello è un caso a parte infine le altre skill non sono così importanti effettivamente non ci sono vere e proprie varianti valide oltre questo setup dal mio punto di vista questa comandanti è la Louisiana batte ship sniper da media lunga distanza con bombardieri incendiari buona capacità di scouting sicuramente un ruolo primario nel competitivo chi gioca a batteci nel competitivo è il caso magari che la sviluppi tutti gli altri io onestamente non ho trovato il motivo per cui preferirla una Montana perché la Montana fa le stesse cose che può far lei anche se non ha il bombardiere a bordo ma in tal caso riesce a sparare molto più volte perché non deve stare nei cieli girando cogliere ma soprattutto non ha questo orribile armamentario superiore che la rende effettivamente molto più vulnerabile al tiro incendi delle navi avversarie e considerando quante navi spammano che ormai in World of Warship moderno anche tante corazzate con Queroor Thunder Harrison Vincent Duncan eccetera eccetera i danni possono risultare veramente difficili da sopportare se avete delle domande particolari o altre io rimango comunque a disposizione nei commenti se avete qualcosa da vedere oltre oppure se ho mancato qualcosa che avete dei dubbi scrivetelo pure tra i commenti e risponderò quanto prima e direi che quindi possiamo andare a chiudere il video per quanto riguarda il resto rimango comunque a disposizione durante la settimana su Twitch nelle live vi ricordo che giù nell'info box c'è il link di accesso al nostro canale Twitch dal lunedì al venerdì e per il resto ringrazio come sempre tutte le persone che sostengono concretamente il nostro canale abbonandosi a Twitch e quindi dandoci effettivamente un ritorno economico per potenziare la nostra apparecchiatura hardware anche perché YouTube Comandanti non paga assolutamente niente tutto quello che facciamo qui è quasi completamente gratuito vi ricordo inoltre che se avete Amazon Prime e volete darci una mano potete collegare Amazon Prime a Twitch ottenere Prime Gaming sempre gratuitamente e ogni 30 giorni potete abbonarvi sempre al mio canale offrendoci effettivamente un aiuto concreto per le nostre produzioni ringrazio davvero tutti quelli della Blizzard Squad che si attuano in questo e so che siete parecchi che ci date una mano Comandanti vi ringrazio ancora per aver visto il video fino a qua noi ci risentiamo probabilmente martedì con un nuovo episodio sempre qui su YouTube come sempre da me e dal sottoscritto e da Mr. Gray buona caccia